La T di otto anni è il campione assoluto del primo torneo virtuale di arti marziali organizzato dall'Accademia Arti Marziali di Fesa Personale Kickboxing fondata e diretta dal maestro Giuseppe Cavallo, specialista di fama mondiale. L'originale iniziativa ha registrato la partecipazione di tanti atleti di varie fasce d'età, anche adulti, che si sono cimentati registrando un video presso le proprie abitazioni in prove libere di tecniche, forme e sequenze delle varie discipline sportive dell'arte marziale che si studiano all'Accademia, le cui sedi operative si trovano a Caolonia, Siderno e Polissena. Una bella iniziativa che ha consentito agli studenti della rinomata Accademia, più volte campione nazionale e mondiale, di mantenersi in esercizio rimanendo a casa. Al termine del torneo virtuale sono stati anche proclamati i vincitori delle varie categorie, che risultano essere Gabriele Pronestin, nella categoria Juniors e Signores, Domenico Carnuccio, categoria Cadetti, Tommaso Platì, categoria Bambini, oltre che primo classificato in assoluto della categoria Open. A presto, a presto, a presto!